Siamo andando a Scid, che è una città al nord della Serbia, al confine con la Croazia. Siamo stati tra i primi veramente ad arrivare a Scid. È un posto di transito dove i migranti passano. Molti di loro arrivano dal sud, da Prescevo, quindi dal confine con la Macedonia. L'hanno transita di ieri come minimo tra i 3.000-4.000 persone, forse anche con cose di più. Siamo al confine tra Serbia e Croazia, dal lato serbo. Stiamo facendo delle distribuzioni di beni di prima necessità, principalmente impermeabili, visto il tempo e le temperature. Poi abbiamo una stazione mobile per la ricarica dei cellulari e una stazione Wi-Fi. Al momento è pieno di famiglie che transitano per questa rotta. Merosissimi bambini, anche piccoli, anche appena nati. Ci sono anche molte persone anziane e persone che utilizzano la sedia a rotelle per fare questa tratta. Le condizioni cominceranno a diventare sempre più critiche, visto l'abbassarsi delle temperature e il peggiorare delle condizioni meteorologiche. Siamo al confine con la Croazia, tra Versacovo e Babska e da mezzanotte sono arrivate 480 persone in modo di autobus, con il concorso di rifugiati. Qua abbiamo fatto distribuzioni di cibo, acqua, vestiti e poi la ricarica del cellulare che per loro era uno dei maggiori bisogni. Il cellulare naturalmente per loro è un modo per mantenersi in contatto con la famiglia per dire dove sono. Il cellulare naturalmente per la famiglia per la famiglia